Buon pomeriggio a tutti, è un piacere vedere di nuovo i teatri pieni e per il gruppo teatrale trennese è un onore essere qua in ricordo di un grandissimo, don Alberto Dell'Orto. Non nascondo l'emozione, l'emozione anche perché è la nostra prima, la prima del nuovo spettacolo che si titola La Verità, uno spettacolo in due atti, ci sarà una breve pausa tra il primo e il secondo atto che spero riesca a farvi divertire e magari a riflettere anche un po'. Vi prego di spegnere i telefoni cellulari, per sempre. La verità è che siamo cattivi e questo non cambierà, non cambieremo, non sarà l'ultima volta che faremo cose come questa, non metteremo la testa a posto, continueremo a fingere, a sembrare esattamente come tutti, il lavoro, la famiglia, il maxitelevisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il cd e la prescatole elettrico, Facebook, Twitter, Instagram e mille altri modi per vomitare la nostra bile contro persone sconosciute. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, muto, prima casa, moda a cheggio, a valigia e salotto di tre pezzi, fai da tette e le quiz, schifezze nella pancia, i figli, a spasso nel parco, biancheria intima firmata nella vana speranza di dare una botta di linfa vitale a una relazione ormai defunta, orario d'ufficio, contratto a zero ore, il viaggio a casa lavoro di due ore, speranze non realizzate, bravi a golf, auto lavato, tanti maglioni, le borse, le scarpe con i tacchi, cashmere, la seta, l'iPhone fatto in Cina da una donna che si è abitata dalla finestra e la giacca fresca di una fabbrica di schiavi nel sud-est asiatico, Natale in famiglia, pensione private, esenzione fiscale, non imparare mai dai tuoi errori, fare buon viso a cattiva sorte, tirando avanti, lontano dai guai fino all'estremo in attesa del giorno in cui moriremo. Grazie. 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 Grazie a tutti. La storia è per taglio, sì. Poi prendi una pasta piccola, la mosconda in mezzo ai tuoi cantini, mezza, mirola, dovrebbe essere sufficiente. Poi giù. Sì, poi faccia comunque un controllo, per le punctotiatee, le m Tre si avere e smettila. No, 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 scontro lo dicendo lei signora Co. Sto parlando con il mio cane. Un labrador, giù, giù, o sono cani molto affettuosi con gli adulti ma anche con i bambini, ma soprattutto con gli adulti. Arrivederci, arrivederci. Ho permesso di prendere la filola. Hai fatto bene? Sì. Sì. E' biodinamico, andrà bene? 25 euro? Deve andare bene per poco. Altrimenti torniamo indietro e ne prendiamo un altro. Bianca, è una cena, non è una degustazione. Non è un po' criticolo, non mi vai per farlo a vestire. Senti, facciamo così. Diciamo che il biodinamico l'ho preso io. Al massimo, praticamente. Che fai? Non fa tutto bene. Ma se torni, ma 35 euro? Metti il voto su un'altra. 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 alle 10 a letto, capito? alle 10 a letto e 30 storie? ma non fa mai le storie con la nonna e non può la mamma che non fai mai le storie e certo tu le vede tutte vinte ma quando mai? lasciamo prendere l'idea che tu vuoi la società e non può la mamma che non fai mai le storie e che non vuoi cosa vuoi a me? grazie che bella domani amore ma perchè Baruno? l'abbiamo chiamato Baruno? eh? mio padre si chiamava Amedeo tuo premio come c'era un tremette da uno ma poi a te piace amore scusa ma ci vogliamo far venire il dubbio dopo 10 anni no è che comunque a mamma non le rispondere così così come? come le hai risposto applausi tu adesso mi dici dove vai? te l'ho detto da picca non ci credo e non si credere tu vai da Gregorio? no ma guarda che dicendo bugie non fai un torto a me ma lo fai soprattutto a te stessa che? hai capito? ma ti ho detto che vado da picca poi dopo ci vediamo con gli altri e forse c'è anche Gregorio ah e a cosa servono questi? eh? non sono miei erano nella tua borsa sono i tuoi? sono di chicca mi ha chiesto di tenerteli ma tu pensi che io sia credita? e comunque non mi frugare nella borsa io tu mi esasperi sapesti tu a me? tua figlia dice un sacco di cazzate e non dici nulla che ti devo dire ha 17 anni mi sembrerebbe strano il contrario esce con Gregorio? normale stanno insieme beh a me non piace a lei si che palle Rocco non piace neanche a te no è vero ma è anche inutile impedirglielo Eva ti ricordi quando anche i tuoi non erano d'accordo che tu uscissi con me? ha servito a qualche cosa? no e allora quanti adolescenti hai avuto in terapia Eva? e quanti ancora ti ringrazio? cerca di vedere le cose con lei con un po' più di distacco ma è mia figlia ma è mia figlia non riesco a vedere le cose con distacco ho capito ma la critichi sempre mi critica sempre aveva un pacchetto di preservativi nella borsa e tu come lo sai? l'ho trovati cioè gli hai frugato nella borsa stavo cercando una cosa Eva tua figlia sta vivendo il dramma di uscire dalla scena familiare ecco facciamola uscire senza romperle troppi coglioni no sarebbe sbagliato lei ha bisogno di un conflitto per definirsi un modello dal quale staccarsi ma lo capisci? Eva mia mamma faceva la fruttivella e tu non sai cos'è stato più semplice per me io sono uscito dalla scena familiare che i miei manco se ne sono accorti un giorno mia mamma dice dov'è Rocco? boh che ne so vado io ehi eccoli qua ciao Peppe è arrivato? no non ancora ciao ciao ti ho portato il tiramisu quello rom eh certo voglio vedere se hai ancora il coraggio di dire che è più buono il tuo ciao ho fatto il tiramisu eh e Sofia? è in camera sua vado a salutarla no no lascia perdere che c'è? guerra? guerriglia e che è successo? le ho trovato un pacchetto di preservativi nella porta oddio pensa se succedesse a Rosa amore a Junior Rosa fa sei anni ecco eccoli ciao 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 ragazzi ciao ciao Peppe? eh non è arrivato Peppe bianco è biodinamico ci siete cascate anche voi e ma cos'è una mara che porti una bottiglia sola? è biodinamico capite cosa vuol dire di biodinamico? vuol dire 25 euro glieli vogliamo guidare piano piano incomoderate piuttosto mi dite come vi immaginate questa dai questa si chiama Lucilla non cominciamo per favore secondo me per stare con Peppe deve essere sicuramente molto carina amore per stare con Peppe proprio carina 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 non deve essere ma perché no scusa? ma guarda che a una donna uno come Peppe può piacere eh io lo trovo un uomo meraviglioso sono d'accordo secondo me è facile innamorarsi di uno come lui sì carità è rassicurante protettivo due palle comunque è facile innamorarsene facci piano blondina hai capito? un'altra cosa ma se questa che si presenta fosse una vecchia tipo milf? oh andiamoci piano eh io e Eva siamo in zona milf oh parla per te bella ma no io dico una vecchia autentica messa in piega, guassetta e come ci poniamo? sia come sia ragazzi comunque sempre meglio di Manuela no 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 Manuela non la devi nominare nemmeno per scherzo chi è Manuela? è la ex moglie di Peppe e di certo non si può proprio dire che fosse carina no però adesso è passato un po' di tempo sinceramente a me comunque la voce roca a me un po' tezzava eh tanto era prima che no vuoi dire che era dopo ma io non ci giurerei eh strana era strana dirlo a me bocci sta via eccoli eccoli buonasera a tutti ciao ragazzi Ben Lucina? eh Lucina si scusa ma ha la febbre però e quindi non viene? eh no sta male ha la febbre e non viene oh e che ci tenevamo tanto a conoscerla eh lo so anche lei ci teneva tanto vado via? no dai eh perfetto ti ha già lasciato? no allora avete litigato no non mi ha lasciato avete litigato? quanti anni hai detto che ha? non ho detto quanti anni ha ma ha la vostra età aiaia che? dico anzianotta ma che a me non ho fatto maturo e meno male che avevamo detto niente battutacce su Lucina eh è per Peppe grazie e poi cos'è che avevate detto? ma niente le solite cose tipo? ma tipo 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 scusa non la conosciamo si ipotizzava e dicevamo boh sarà alta bassa i capelli rossa mora bionda ma si ipotizzava anche un sale e pepe un sale e pepe? un sale e pepe? lo lasciate stare? dai dai ragazzi commissa l'eclisi oh l'eclisi andiamo com'è che ne vedo due? bevi ancora un po' di vino poi qua si adesso lo vedo bella si 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 spostaci spostaci provi a vedere no 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 comunque si Lucina è proprio un bel nome sa proprio bene Peppe e Lucilla mi piace ecco a proposito di Lucilla e perché non ci racconti qualcosa di lei? e cosa vi devo dire? sei innamorato? come faccio a sapere se sono innamorato? e va scusa come fa uno a sapere se sei innamorato dell'altra persona? a me lo chiedi sei tu che studi queste cose te lo dico io se ci parli 30 minuti al giorno vuol dire che sei innamorato e se ci parli 60? ah e allora vuol dire che sei molto innamorato poi non ci parli più e vuol dire che sei sposato ma quant'è che state insieme? ma da poco qualche mese bello quindi sono i primi fuochi ardi ardo ardi beh comunque tutto bene tutto bene e come me hai scelto proprio questa sera per farcela conoscere? ma non abbiamo scelto è che è capitato così ma tu ti ricordi quella sera quando ci siamo conosciuti? cioè io quella sera avevo un'ansia e perché? era tesa poverina eh conoscere gli amici di Cosima eh certo hai fatto questo affare ah comunque da questo punto di vista Lucilla era tranquillissima infatti sta sotto cortisone io quella sera ero gitatissima mi sono cambiata dieci volte sì sono lenti beh però qua mi sembra che le cose siano andate bene cioè io adesso mi sento una di voi ma chi? tu? una di noi ma quando mai? amore guarda queste belle facce vanno scherzando questi simpatici burloni ma certo, certo che sei una di noi che è la mia preferita ehi 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 chirurgo eh? eh buono buono vorrete un po' di vino? eh sì ma che buona questa torsetta ma cos'è? è a base di peperoni ragazzi non lo dico che se state al mare ce ne dobbiamo portare più in Italia ma sono 7,50 euro e ecco vedi che ci dovrei coltivare nel mio terrenologio? i peperoni i peperoni all'odio sono 7,50 euro no amore ti prego anche la coltivazione dei peperoni no comunque per me è un bel video a proposito di salsa la casa a Fabignano? no niente ragazza ancora niente oh ma sarà la prima vacanza senza chiare Diego che brutto io l'ho sentita eh vi saluto a tutti ma come sta? è come sta sta male è tornata a vivere a casa dei suoi a Verona certo che sapere che tuo marito ha una relazione con uno che è all'età di tua figlia ci metterà un po' a riprendersi eh chiara è in zona meno pausa quella non si riprende più ma va dai ma va io alla fine studio da me hai visto? ma voi lo sapevate? cosa? di questa tipa no ma figurati se non lo sapevano ma certo e anche se lo sai che fai glielo dici beh se sei amico di una persona certo che glielo dici scusa quindi secondo te sempre che l'avessimo saputo saremmo dovuti andare da chiara a dirle guarda tuo marito si fa una di 23 anni davvero 23 anni? 22 da compiere siete delle merde ma no è che queste sono cose delicate poi se lo dici fai scoppiare il casino va a finire che è colpa tua e no 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 a me non sta bene ha ragione Peppe beh però io ve lo dico cioè se Cosimo dovesse tradirmi voi me lo dovete dire ok? allora tesoro se proprio proprio lo vuoi sapere deficiente ma questi qua si reggono il gioco da una vinta bianca non ce lo direbbero mai ha ragione sono tutti uguali è una guerra persa siamo troppo diversi come PC e Mac e l'uomo cosa sarebbe? ma l'uomo è PC ovvio costa poco si becca tutti i virus e al massimo può fare una cosa alla volta infatti per esempio Lele quando è sotto la doccia o si insia buona o canta altrimenti si impalla bella è proprio bella ma fatto ridere sì e le donne ovviamente sono in me inclusive, veloci, eleganti costano un botto e sono compatibili solo fra di loro e adesso scusate ma a Diego cosa succede? ma niente senza moglie e senza figlie e con una ragazzina di 22 anni da come dire? una vita d'inferno intanto però devi sorvirti tutti in Italia andare a concetto di Justin Bieber ubriacarti con la birra mentre la tua ex ti sta portando via tutto soldi, casa, macchina mamma mia come sei esagerata tutto adesso? chiedi a Peppe ah no, da questo punto di vista io non faccio testo eh ancora un po' e gli alimenti me li pagava mia moglie no, un avvocato per quanto infame lo sa quanto guadagna un prof di ginnastica certo che però ragazzi a pensarci bene una famiglia sfasciata per colpa di un messaggio no, veramente una famiglia sfasciata per colpa di una troietta di 22 anni d'accordo? però se Chiara non avesse letto quel messaggio adesso la colpa è di Chiara che ha letto il messaggino? no, però pure tu su, cancellali questi messaggi, non mi sembra la PC se fai una ragazzina stacci attento scusa ma vabbè cosa stai dicendo? no, 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 scusa fammi capire un po' a che cosa stacci attento? al messaggino o al fatto che sia una merda? oh, perché te la prendi con me? guarda lo son mica stato io Lele mi passi due soltichini per piacere sa che è caldo eh Cosimo ha ragione però dobbiamo starci attenti ma dentro ormai ci abbiamo messo tutto questa qua ormai è diventata la scatola nera della nostra becca ora è successo a loro ma quante coppie si sfascierebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro capirai a me Lele il suo non lo darebbe mai e che problema c'è? ecco, tieni, prendilo guarda che lo prendo sul serio prendilo Lele, lascia perdere gli trema la mano è sbiancato io esigo che tu lo prenda poi però metti anche il tuo qua sopra ah guarda ci troveresti dentro solo i messaggi del pediatra ah no anche di tua sorella che mi chiede di tua madre e perché lo chiede a te? e perché lo chiede a te Lele? tu rispondi al telefono? e tu? lo daresti il tuo a Cosimo? oh guarda io non ho neanche il fin per cui amore mio ma non lo vorrei io il suo caro e Rocco invece se lo ingoierebbe il suo piuttosto non è amore? ma no dai perché figurati ci troveresti dentro boh qualche tetta qualche culo ma che questione di lavoro quindi Pippi voi vi state dicendo che nessuno di noi ha segreti a parte Diego qua tutti i santi Eva ma che segreti vuoi avere? ma magari ci conosciamo tutti a memoria infatti speriamo che ci sia ancora qualche segreto eh altrimenti sai che palle ok allora facciamo un gioco che gioco? scopriamolo cioè dai dai mettiamo qua tutti i nostri cellulari e poi? e poi per la durata della cena messaggi, whatsapp, telefonate qualche arriva arriva leggiamo e ascoltiamo insieme attento noi non abbiamo segreti no? ma si questo è il mio ma che gioco è? beh ma magari è divertente dici? questo è il mio io lo metto qua no ma che metti ma che metti è qua tanto Lucilla sta a casa l'avrei fatto comunque ci credo dopo le sette di sera manco tua madre ti chiama più ma che gioco è questo Eva? ma è divertente divertente? ma a me non sembra eh forse perché hai qualcosa da nascondere? no in realtà ho paura che tu possa dire qualcosa da nascondermi se tu hai un amante io non lo voglio sapere se avessi un amante ti avrei proposto questo gioco oppure proprio perché ce l'hai vuoi essere scoperta esiste un meccanismo psicologico secondo il quale i serial killer fanno di tutto per essere scoperto ma scusate facciamolo poi se ci tuffiamo smettiamo dai ma si in fondo è è come quel gioco che facevamo da ragazzini il gioco della verità ma ve lo ricordate? dai da ragazzini ho capito da ragazzini ci facevamo anche le pippe tutti insieme no io con voi non me le facevo eh no no lui da solo eh dai Cosimo metti il tuo telefono metti il tuo telefono mi devo preoccupare? no 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 ma ragazzi ma lo stiamo facendo veramente dai è pure caffone tenere i telefonini sul tavolo quando si mangia infatti Diego lo teneva sempre spento e invece Lele lo tiene sempre a faccia in giù come lo tengo io scusa? a faccia in giù che pensi che non me ne sono accorta? ma sono cose a cui uno non fa caso uno tira fuori il telefono e l'appoggia eh certo e non fa nemmeno caso al fatto che il cristallo possa rigarsi e cambiarlo costa 200 euro oh ma dai cilesi 50 e allora arriviamolo no? guarda guarda lo metto a faccia in su va bene prendo anche il mio però ragazzi vi avverto eh se per caso chiama mia madre io non rispondo e questo è il mio ma se chiama quella per cane allergico agli acari io non rispondo dai vediamo quello che succede sei d'accordo che stiamo facendo una cazzata? una grandissima cazzata grazie tutti vogliamo che le cose restino uguali accettando di vivere nell'infelicità perché abbiamo paura dei cambiamenti delle cose che vanno in frantumi forse la vita non è poi così caotica è il mondo che lo è l'unica sola trappola è lo restare attaccate alle singole cose facendoci rimanere fermi e bloccati in una realtà che non ci appartiene più le rovine sono un dono la destruzione è la via per la trasformazione anche in qualcosa di eterno le trasformazioni saranno sempre presenti questo è l'unico modo per evolvere per crescere per andare avanti non esistono altre possibilità dobbiamo accettare ogni singolo cambiamento anche se questo comporterà un cambiamento radicale a volte drastico o che ci farà soffrire siamo in una continua evoluzione in un perenne cambiamento evolutivo ci saranno sempre scelte da fare strade da prendere e strade da lasciare e strade da lasciare che ha preso dalla madre però puoi venire un attimo per favore? si scusate eh vieni papà puoi darmi i sogni per favore? capito ma non potevi chiedermi di sai che mi scoccia davanti a mamma che cos'è successo? le solite cose davide consigami dite eva quanti anni ha Sofia? 17 a giugno mamma mia ricordo quando noi abbiamo festeggiato il suo compleanno quella volta stresa quanti anni faceva? 10? si ma ti ricordi? sembra ieri perfetto quindi mamma come passa il tempo l'abbiamo già detto? si e una volta qui era tutta campagna i neri hanno un ritmo nel sangue e che picco vado un professionista che facciavano lo diciamo e basta dai ho detto una cosa uuuh attenzione primo messaggio chi è? è il mio vai leggile voglio il tuo corpo cominciamo bene chi è? non lo so non lo so non lo so cosa vuol dire? che vuol dire non lo so vuol dire che non lo so non ho il numero memorizzato chi è? non lo so sarà uno che ha sbagliato uno che ne so è il numero del messaggio mi sta chiamando è fatto rispondo mettimi la voce si l'ho messo dai dai pronto? chi è? pronto? c'è qualcuno ma non parla pronto? chi è? è sto cazzo! ma ci sembra normale ma che scherzo è? è uno scherzetto dai ma guarda che sei proprio uno stronzo digelo il primo stronzo chi scherzo è? ma uno scherzetto vabbè io però l'avevo capito eh si vede al colore eh ma papà puoi ridarmi il telefono che devo uscire beh ma almeno saluta no? ciao a tutti ciao Sofia ciao Sofia ciao Sofia comunque avevo già salutato prima aveva già salutato prima non è sempre così eh no a volte è peggio ma queste età sono ingestibili perché tu com'eri a quell'età? eh com'ero io eh com'era? com'era non ricordo io com'era era un aiutami era un superficiale un aggettivo perfetto amava solo il pallone e un'altra cosa eh amore non gli dare retta tua madre era disperata una donna pinta invece di loro erano pinta io non lo so se sarei una brava mamma non lo so ma perché sei incinta? no 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 così per dire ma ci state provando? beh sì sì diciamo che sia sì 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 ma allora è la vostra no 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 ma non c'è ancora niente da brindare Carlotta è così beh già il fatto che qualcuno scopi no 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 Carlotta manco i primi sono arrivati già così siamo messi ma vabbè ma perché che ho detto non penso che qualcuno si scandalizzi no? no vabbè ma che c'entra però eh oppure vogliamo far credere che dopo tanti anni di matrimonio si scopa ancora come il primo giorno? no eh sono solo due persone che stanno trovando ad avere un figlio va bene va bene ho capito va bene allora facciamo un brindisi più canonico ai figli e al senso che danno alla nostra bella vita che palle era meglio quello della gente che scopa eh ho capito Peppe però non ci va mai bene niente no non mi va bene il fatto che senza figli la vita non abbia un senso alle volte è anche una scelta di comodo perché dice una scelta di comodo? ma sì uno fa un figlio tira avanti per un po' non pensa più a niente comodo eh ma io un figlio mica lo voglio per tirare avanti scusa e per cosa? ma che ne so per mille motivi dimmene uno eh uno per completare la coppia per esempio come se in due non si possa essere felici perché la felicità arriva sempre da qualcun altro che palle Peppe ma no è come l'altra sera abbiamo litigato su dio ecco io non li voglio tutti questi aiutini il senso della mia vita voglio essere io sono egoista ma sarò egoista e morirò egoista eh salute salute a volte invece può essere egoistico anche avere figli perché è egoistico scusa anzi fare un figlio mi sembra anche un atto molto generoso no? eh no no invece può essere solo paura di invecchiare molti sperano che un figlio ti possa dare una seconda vita qua qua io tutte queste pippe mentali non me le faccio ma mi è piaciuto tanto avere una figlia ne avrei fatte altre ma ma io sono d'accordo con Rocco adesso lo so voi mi prenderete in giro mi prenderete per scema però vi dico che il momento più bello della giornata è proprio quando l'entorosa ha letto lei mi guarda e mi dice mamma sei la più bella del mondo ecco in quel momento io mi sento felice 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 abbiamo capito mi sa ha detto felice l'ha detto e ce l'ha detto aspetta che arriva a 16 anni poi la sera ti manda a cagare poi mi dici come sei felice dai ma non dire così e poi io penso anche che i figli servano a darti una seconda possibilità perché è come se attraverso di loro tu ripercorresti tutte le tappe della tua esistenza ecco io le tappe della mia esistenza non le voglio ripercorrere questo perché tu hai avuto un'esistenza di merda che ti è? è il mio è il mio è il mio sorella rispondi? con viva voce ecco in viva voce Peppe sì sì ecco pronto? pronto ciao Marta ciao Peppe Peppe ci sei? sì sì ci sono Marta non dire cose strane che siamo in viva voce no ma come in viva voce? sì siamo in viva voce Peppe non devi dirlo e coglilo ma non posso e come non puoi? no non posso scusami ma cos'è tutta questa confusione? eh sono da sono da Rocco e Eva ciao ciao a tutti va bene dai chieditiamo domani sì Marta scusa ma guarda che sei per quel lavoro a Como guarda che non ci vado eh va bene ne riguardiamo tranquillamente domani ciao ciao a tutti ciao ciao oh scusate ho fatto un casino non ero pronto però la prossima volta non sbaglio eh perché dove andare a Como? ma no mia sorella mi ha trovato un lavoro in una scuola privata dai capite perché non vuoi andarci? è lontana ma io non farei tanto difficile comunque di questi tempi e poi sai che bello lavorare a due passi dal lago sì? oh sì io mi ti trasferirei subito a Como guarda non ho capito ti trasferiresti subito? sì a Como? sì non ho capito tu domani ti trasferiresti a Como sì domani ti trasferiresti a Como? sì ha capito tre volte che l'avete detto ma sì ma è così per dire un po' per invogliare pezzi ma mica è un bambino che va invogliato no? ma no poi ho mandato curriculum ovunque prima o poi arriverà l'occasione giusta sì non è che piove giù dal cielo eh così e ma cos'è? il processo? beh guarda che non ti posso non licenziare così però eh ma non mi hanno licenziato no? semplicemente non mi hanno rinnovato il contratto è diverso ma è peggio perché sono dieci anni che ti rinnovano un contratto a tempo determinato è illegale mi puoi massacrare lele lele grazie ti ringrazio ma non ne ho bisogno questa cosa me la voglio risolvere da solo con calma senza sillie e senza andare a Como soprattutto con calma Beppe bello mio tuore che inizi a muovere un po' il culo però eh ma la fai finita o no? basta! ma cosa vuol dire basta? ma scusa prendi me io ho appena chiuso il negozio mi sono rimboccato le maniche e mi sono comprato il tazzo guarda lui prendiamo esempio tu vuoi tanto lo spiritoso intanto mi sto muovendo di nuovo e ho messo in vendita la licenza ma se non hai neanche iniziato a pagare levate ma com'è messo in vendita la licenza? voglio vedere quanto mi offro e quando me lo dici? vabbè quello poi te l'avrai detto eh quando? amore è solamente un'idea beh è sempre un'idea sì però stavolta è quella giusta sempre quella giusta ragazzi il mondo cambia car to go enjoy uber mai sentiti nominare? tra qualche anno i taxi non ci saranno più io guardo avanti guardo al futuro che male c'è? come quale sigarette elettronica non cazzo ma lì ho avuto conto le lobby del tamale quelli hanno finanziato la rivoluzione in Nicaragua non è che si Nicaragua che si trova esattamente che si trova esattamente poi te lo dico vabbè comunque intanto ci ho provato sì come con il business degli Yorkshire su quello sei indifendibile ma che c'entra? chi è che avevi contro lì? Lilli e il vagabondo? dai ma che c'entra su bene la patente è ancora te l'avamo gridata no no bisogna aspettare la fine del process vorrei che fissata adatta dell'udienza fine giugno e sei proprio qua? no non sono preoccupato che sono sono stanco non ne posso davvero più che finisca questa storia guarda tutto a posto? ma sì sì l'avvocato dice chissà l'ha scagionato subito ma dai allora vedi che quest'estate allora festeggiamo chi è? è mio padre tuo padre è papà? è papà colpette? viva voce eh? oh sì ciao papà ciao cara come stai? bene sono a cena con amici allora non ti prendo subito velocemente guarda l'intervento lo puoi fare alla madonnina ho parlato con il professore Blanchard anzi guarda io ti do il suo telefono così gli parli direttamente e siete a posto grazie ciao ok grazie papà ciao saluta la mamma eva a che intervento devi fare? no ma nulla di grave ma sto plastica additiva mi rifaccio le tette ti rifai le tette e per cosa me l'hai detto? ma scusa tu non fai l'analista e allora? ebbè è negativa fa un po' strano e gli analisti non si rifanno le tette ma scusate non mi piacciono me le rifaccio ma certo proprio questo è il problema tu dovresti fartene piacere perché sei un analista e ti dovresti accettare no fatemi capire secondo voi una che si rifà le tette non si accetta? no? eh vabbè ma io accetto tutto tranne le tette ma perché non te le rifà Rocco? ma giusto Rocco eh perché non gliele rifai tu? perché non gliele rifaccio io? ma perché il papà primario non gradiva per la figlia ci vuole il chirurgo del vip il professor Blanchard il professore che vive in Svizzera ma lavora in Italia mica Rocco Bucilli qualsiasi che rifà tette e culi a sciampiste commesse di periferia ragazzi io faccio il due per uno due tette al prezzo di una hai finito? perché? non è così? no che non è così e allora dimelo tu come no ma è che un marito non può rifare le tette alla moglie no ma non lo dico da analista eh è puro buonsenso ti passerebbe qualsiasi fantasia sessuale no? eh beh sì in effetti Rocco io sono d'accordo con Eva ma sì è un po' come quando cucini e poi ti passa la voglia di mangiare è vero ragazzi questo questo è il motivo ufficiale la verità è che il padre mi considera un coglione ma non è vero e per la figlia per la figlia avrebbe voluto sì un anestesista un direttore sanitario un direttore generale sa uno come lui Rocco adesso basta con questa storia eh scusa Eva fai così una tetta te l'hai fatto il marito e l'altra a blanchar senti sapere quale e poi quando ti svegli devi dire quale è meglio no glielo fai dire a papà papi qual è la tetta di blanchar che poi ragazzi io non voglio entrare nel merito ma non ce ne sarà più bisogno eh ehi guarda che ti ha fatto un complimento eh sarà l'eclissi però guardate che Eva ha ragione cioè è come se tu andassi in analisi da lei cioè è impensabile no ma non hai capito per lui è impensabile proprio l'analisi non ci andrebbe mai beh io sono un po' spaventato dai tempi lunghi però mi piacerebbe provare intanto ci sta poco saluto sul divano questa sera sei proprio un mattatore eh comunque io ho tutta questa esigenza di raccontare i fatti miei in estraneo no no non è per te Eva eh è che io boh proprio non lo sento non so per una cosa del genere bastano gli amici no io su questi tanto poi manco paghi no ma lui non ci va perché fondamentalmente pensa che l'analisi non serve a niente ma no 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 ma dillo non mi offendo mica perché dici ma no non è vero secondo te il mio lavoro non serve a niente ma invece io credo che noi due facciamo un lavoro molto simile voglio dire tu rifai i cervelli e io rifaccio le tette facciamo sta bene la gente solo che tu ci impieghi boh qualche anno e un paio d'ore questo di chi è? il mio no il mio no ragazzi sono le lasagne vado io vado io ti aiuto anzi datemi tutti i piatti così faremo grazie io esco a fumare eh ti accompagno Peppe beh Peppe Peppe c'è un problema che problema? praticamente delle sere alle 10 una mia amica mi manda la buonanotte eh tipo mi manda una fotina una fotina una fotina e che fotina? eh una fotina sua ecco ecco ma con due è un bel casino eh sono quasi le 10 mi devi dare una mano e come posso aiutarti io? abbiamo il telettonidelli li scambiamo tempo della fotina poi li li metto a posto eh no così qua la fotina arriva a me ma tu sei il single no? no non più oramai ho capito ma stasera sei da solo qui no ma che fotina è? che fotina una fotina una fotina normale mi aiuti o no? non mi va ma come non ti va? cioè a te non vai facciamo succedere un casino per una passata a Peppe non vai facciamo una famiglia così perché a lui non va si ma ma davvero ma che fotina è? che foto è? ti ho detto una fotina normale Lele non mi fanno fare figure di merda guarda Peppe guarda l'altra sera mi hai mandato una sua foto col pigiamino di Pluto Pluto? Pluto no ma quanti anni ha? sai che non lo so vabbè gli aiuti o no? Roberto senti Eva io non posso facev evaluationselo ma tuo marito mairanadi sono felice perché te l'ha detto? me l'ha detto volele però mi raccomando io non ti ho detto niente hai capito? chi è? è steve jobs? chi? è steve jobs? non era morto? ah invece se era vivo chiamava mia moglie è urgente? è urgente? chi è mamma? no è steve jobs si rispondi no? no ma che rispondi non parlo la lingua io ma che non parla la lingua per piacere ma buonasera riccardo buonasera signora masi guardi la chiamavo per ritornare a questo computer pronto ah bene benissimo ma come mai ancora lavoro a quest'ora? signora guardi troppi virus in giro ah vabbè allora senta io posso ritirarlo non lo so domani sera verso le 7 può andar bene? si perfetto verso le 7 va benissimo a domani arrivederci grazie è il tecnico del computer e lo memorizzi steve jobs è carino no? quindi se chiama al meccanico cosa fare? marchion un messaggio due messaggi tre messaggi giulio per il calcetto giulio calcetto giulio calcetto domani confermato mi è andata bene domani chi gioca? si dice dice domani no? si ma questo messaggio non è arrivato hai finito il credito? a volte tarda un po non è che mi avete fatto fuori? no ma ma peppe è perché ho organizzato giulio lo sai come è fatto giulio no come è fatto giulio? è distratto è strattissimo distrattissimo tu falla la borsa capito? si dai vieni comunque ma si ma facciamo i cambi siete delle merde voi mi chiamate soltanto quando vi manca il portiere davvero cioè amore davvero lo chiamate solo quando manca il portiere? no ma non è vero ma non è una cosa carina bianca mamma mia lì ce ne prese delle meraviglie ma vabbè che c'è ma che sono così amici dai cioè è così amici è un messaggio non è arrivato scusa prova a spegnere che accendere magari è vero un due tre merda metaggino a cosimo marica mi chiami urgente tre punti esclamativi e chi è questa marica che ha urgente bisogno di essere chiamata chi è mi spiace deludorina marica è la centralista del radiotaxi avete presente piazza vittorio atto rinascimento non c'è numero ecco sì ma comunque chiamala siamo curiosi di questa marica a parte che stiamo mangiando dai poi magari mi mollano a tutti tutti ma sì ma sarà un cambio turno lascia stare guarda come difende il maritino ma si vede che siete sposati da poco no dai chiama marica forza ma veramente no dai ma poi mi mollano a sostituzione e ci rovino il weekend siamo a pranzo dei miei capace che te lo sardo il weekend allora e poi comunque marica non è il suo tipo cioè una quattona tutta tatuata con due tette così fine com'è che si chiama di cognome il pepe ma dove va venti stasera è una puntazione americana Assolutamente sono 12 settimane, successo assicurato. Lo sa questa applicazione che ti sei sbranato un piatto di lasagna in 30 secondi o... Le sto bruciando, ma proprio adesso, è quando suona. E di notte? E se suona, spegni il telefono. Ma non posso, posso mica insegnare la ginnastica, sono buoniforma. Oddio. Ma rossa pettana. Comunque, è fantastica questa applicazione, la voglio pure io, mamma dove l'hai trovata? Ma l'ho scaricata da internet. Voi la conoscevate? No. E poi scusa, dai, però con le lasagne sullo stomaco. Ho scambiato i telefoni. Cosa? Ho scambiato i telefoni. Sei sicuro? Non rompere. Perché non me l'hai detto? Che cosa? Che vai, nanà. Perché non me l'hai detto? Ma perché ci vado da poco? E quanto? Boh, saranno... Sei mesi? Ah, non è poco, eh? Sei arrabbiata? No. Sì. No, non lo so. È che non ci eri mai voluto andare. Eh, ma adesso sì. Adesso sì, perché? Ma perché sì, forse è vero, non servirà a niente. Però ci voglio provare. Almeno, se ci sfasciamo, non avrò il rimpianto di non averci provato. E sta servendo. Boh, non lo so se sta servendo, dovresti dirmelo tu. Però, vedi, una cosa l'ho imparata. Cosa? Saper disinnescare. Ci vuol dire? Cioè, non trasformare ogni discussione in una lotta per la supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo molto saggio. Vedi, le copie che vedo durare sono quelle in cui uno dei due, non importa chi, comunque è disposto a fare un passo indietro. Invece, secondo me, sta un passo avanti. Eva, io non voglio che il te, che diciamo come Barbi, che è tutta rifatta. Non è io senza padre. E... La vado a cambiare, tutta bagnata, eh? Sì, direi che sì. Applausi. 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 L'unico che può stare tranquillo, ragazzi. È una foto di Isa Clementine. Attenzione, non è Lucilla. Ma che cos'è questa voce? È per sottolineare. Ma sì, è Clementina. Ogni tanto mi manda una... Ma che cos'è, Peppe? Ma c'è lei? No, no, sono cose private. Ma cose private di che? Ma se che abbiamo un'unica... Peppe, Peppe, guarda che mi alzo. Mi alzo, mi alzo. Qua sai? Peppe, leva la manina. Leva la manina. Brava. Stasera abbiamo detto, con ognuno può... Brascia. Che cosa è? No, no, non è roba per voi. Non è roba per voi. Rocco! Rocco! Eh, a momenti, a momenti, a momenti, a momenti. Oh, non puoi capire cos'è arrivato. Chi è? Ma... Tu che sai del mestiere? Ma... Come si guarda? Ma chi è? Ma chi è qua? E lui, ma... Ah, hai capito? La fidanzata di Peppe. Ma non è la mia fidanzata. Ma... Ma ti pare che quella possa essere la mia fidanzata? Ma... Ma è una che fa fidate. No, no, no. Fa il saluto al sole. Certo, ragazzi, che... A Peppe dopo il divorcio nulla per anni. Poi a un certo punto tutto. Fidanzate, amanti, eh, Peppe? Oh, ma Peppe non ti devi giustificare. Cioè, ma... Mille punti. Applauso! Applauso al Clementini! Ma cos'è? Ha chiamato un messaggio. A te. Ah, a me. Eccolo qua. Ma che suonerebbe messo? Una rana? Ma secondo te c'è un deficiente che metto la rana. Saranno stati bambini. Lucio, come stai? Ah, che carino che è. E chi è Lucio? È un collega dell'ENI, dell'ufficio legale. Ma io mica me lo ricordo. Ma perché eri in maternità quando l'hanno assunto? È un tipo, un tipo simpatico. E perché ti chiede come stai? Perché? Perché? Perché stamattina mi sono preso un'cazzatura, ragazzi, per un contenzioso giù in Basilicata che è davanti a cinque anni. Ha visto un po' così, allora... E non rispondi, eh? No. Ecco, non perché sei tu, Lele. Però io quelli che non rispondono ai messaggi non li capisco proprio. Poi, questo qui è stato anche gentile interessarsi, non trovatele? E se... Ma cosa ti costa? Rispondi, sto bene, sono a casa... Fine. Giusto. Eh no, scusa, perché devi scrivere chi è a casa se non è vero? Ma così, per dire. Eh beh, allora se così per dire scrivi la verità, no? Scrivi, sto bene, sono a cena d'amici e... Che ne so, ci sentiamo domani buonanotte. Infatti. Ma perché devi dire dov'è? Ma è solo una questione di principio, è solo una questione di principio. Però prima le telefonate cominciavano tutte con... Come stai? Come va? Adesso dove sei? T'ha chiesto come stai? Ma perché devo dire dove sono? Ma soprattutto, perché lo devo dire a te dove sono? Ma a te poi, che cazzo, te ne frega di dove sono? Ok? Ma scusa, eh, adesso tu perché cazzo te la prendi con me? Eh, perché? Perché queste cose qua, eh? Ci hanno tolto il privato, la praiva, l'intimità. E siamo noi che glielo permettiamo, eh? Giorno dopo giorno, senza rendercene coni. Eh, spacca. Vabbè, io non rispondo, eh? Bravo, non rispondo. Ragazzi, ve lo dico, questa iglese non vi fa bene, eh? Rocco? Mm? Ti è arrivata una mail. Chi è? Ho paura, eh? Mm? Ho ricevuto anche un messaggio. No, no, prima la mail di Rocco. Ragazzi, Orizzonti Tour. Confermata la casa a Fadignano. Mm? Ti è andata bene. Adesso leggiamo il messaggio di Carlotta. No, aspetta, aspetta Carlotta. Scusami, eh, ho imparato una cosa che... Siri, leggi mail. Sì, sì. Non hai nessuna nuova mail? Neanche Siri, io levo la mail. Ma che mail? Un messaggio, Peppe, un messaggio. Eh, scusate, ho sbagliato, scusate. Mail. Siri, leggi mail. Ancora? Leggi messaggio, Siri, leggi messaggio. 3, 4, 6, 2, 3, 7, 1, 7, 3. Gentile signore Rosa, volevamo informarla che abbiamo nuova disponibilità dal mese di giugno. In questo periodo può uspruire il nasconto del 25%. Per qualunque informazione non esiti a contattarci. La direzione del soggiorno per anziani da Miette vuole rispondere al messaggio? Eh, no, che non voglio rispondere, mamma, vi pare che questi mandano un messaggio a quest'ora? Questi sono matti. La quiete? Ma che cos'è un ospizio? Ma no, no, non è niente, che una settimana fa ci sono andata con Rita, sai la mia amica? Eh, perché sua madre sta lì. È un posto bellissimo. E allora mi hanno fatto visitare la struttura. Già che c'ero io ho chiesto delle informazioni, tutto qui. Tutto qui? Ma ti pare che uno chiede informazioni a un ospizio? È come se uno va a un funerale e già che c'è chiedi se c'è una tomba a livello al cilitero. Ma che c'entra? Guarda che questa non è mica un ospizio qualunque. È un soggiorno a cinque stelle. Non ci posso credere. Vuoi mandar via mamma da casa? No, Lele, per favore, non farmi passare per quella che non sono io, non voglio mandare via di casa nessuno. Quella donna ti vuole un bene dell'anima. Ci aiuta con tutto, con i bambini, con tutto. Sì, lo so. O sbaglio? No, Lele, lo so, ci aiuta con tutto. Non sbagli, non sbagli. Però, Lele, devi ammettere che da quando tua madre vive a casa con noi, i nostri equilibri si sono un po' trasformati, eh. Lo vuoi ammettere o no? Ah, sì. Beh, certo. Certo è colpa di mamma che dorme nella stanzetta in fondo al corridoio se noi abbiamo problemi. Sì, sì, è probabile. Senti, Lele, facevo che non ti dico niente, eh. Noi noi non abbiamo problemi, va tutto bene, va tutto bene. Senti un po' lì, eh. Lele, scusa. Anch'io voglio bene la mamma di Cosmo, però dovessi abitare con noi, cioè... Scusa, amore, però non so se ce la farei, cioè... Con mia madre? Eh. Ma con mia madre non vorrei starci neanche io più volo. No, ma poi... Quei posti sono così fighi che sono proprio i vecchi che ci vogliono andare. È come se stessero sempre in vacanza. No, ma vi siete messi d'accordo? Cioè, spiegatemi, eh. No, ma scusami, tu ci staresti con la mamma di Carlotta dentro casa? E va, e va. Mia madre è vedova, la sua no. Eh, la mia no. Già. È vedova. Ma è anche un'immensa scassacazza. Ho preso più scappi da tua madre che da mio padre. Pochi ne hai presi, però. Ecco, diciamo che tua madre non eccelle in simpatia. Vabbè, ammetto che a volte può essere paticoso. Dai, cambiamo discorso. Che ore si sono fatte? Oh, sono da poco passate le dieci. Andiamo a vedere le dieci. Dai, le dieci. Lasciate qua i telefoni, eh. Posso prenderlo per fare una foto? Solo tu, però. Voi no. Dai, andiamo. Andiamo a vedere le dieci. Comunque, hai capito questi che organizzazioni? Non fanno in tempo a seppellirne uno, nel saggino, tac, e lo rimpiazano. Eh, tu scherzo, scherzo. Intanto guarda, tira tutto pieno. Dovrai aprire una bella casa di riposo. Ecco, bravo. Apri la lodi. Il fuori fa i peperoni, dentro ci metti i vecchi. Che bella. Bellissima. Fra un po' tu un parecchio. Senti, Lele, ti volevo dire, mi dispiace per prima. Guarda che una cosa detta così, io non ci ho fatto nemmeno caso. Io non volevo che tu ci rimanessi male. Non ci sono, è ma sto male, dai. Chissà perché le Plissi ci affascino sempre così tanto. The Dark Side of the Moon. Che disco, eh? Dai, facciamo una foto. Su, dai, dai. Chi ce l'ho? Io. Ti puoi stare? Sì? È stato dato il video di te. Da, da, da. Così. Ok. Così. Sì, siamo, siamo. E non c'è una bella. Timore, lascia stancho. Faccio, faccio io che faccio. Ci siete? Siete tutti? Sì. Uno, due. No, scusa, ma che vuole questo di venerdì sera? Ma che ne so, dai. Ma chi è Ivano? È il suo ex. Guardate come mi rode. Ma non mi rode. Eh, facciamola a foto. Dai, 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 dai. Infatti, su. Dai, guarda. E poi non ho capito perché non memorizziamo Ivano. È perché si chiama Ivano. Come lo devo memorizzare? Col cognome. Che cos'è il tuo fratello? Ma Cosimo, dai. È il tuo ex. Forza, facciamo sta foto. Appunto. Ma facciamo sta foto, dai. Gli ex sono pericolosissimi. Soprattutto se non hanno lasciato. Giusto. Giustissimo. Bianca? Bianca, chi è che ha lasciato? La foto. Facciamo la foto, ragazzi. La foto. Comunque no. È una questione di principio. Sì. Eh, già, è questa cosa. Se vedete? Ci siete? Sì. Vai. Uno, due. Cazzo, per fortuna che rinocuo. Eh, scusa, ma che cazzo di... No, amore, ti spiego. Lascia che ti spiego. Ma che cosa vuoi spiegare? Questo ha scritto voglia di scopare. Tante volte può essere il T9, eh. Lascia che ti spieghi. Spiega? Spiegami. Allora, Ivano ha una storia comuna. È una storia di sesso, o almeno per lei è una storia di sesso. Lui è innamorato perso, non lo vuole ammettere, sta male come un cane. E chiama la veterinaria. E allora, e allora, ma non hai capito proprio perché scrive a te. Ma non hai capito che c'è da rinca. Dai, dai, adesso... Vediamo. Lascia... Vediamo. Lascia ti spiega lui. No, Bianca. No, no, no. Bianca, veramente non c'è bisogno. No, no, adesso, adesso... Bianca, stai facendo una cosa... No, no. Non la voglio fare. Zitto. Gua. Oì, grazie che mi hai chiamato. Scusa se ti rompo, Bianca. Ciao, Ivano. Ti ha chiamato? Sì, sì, mi ha chiamato. E? E mi ha detto di andare da lei. E tu non ci vai. Senti, Bianca, io non ce la faccio. Io voglio andare, voglio andare. Ivano, se ci vai poi stai male. Ma io sto già male adesso. Eh, ma se ci vai poi stai peggio. Va bene, grazie dell'aiuto che mi dai. Senti, io così ti aiuto o almeno ci provo. Altrimenti è inutile che mi chiami, sai come la penso. Che palle che sei. Ciao. Dai, Ivano, non andarci. Io ci vado. Ciao, io ci vado. Ciao. Ciao. Contento? E ogni quanto vi sentite? Ma che ne so, ogni tanto. E quant'è ogni tanto? E tutte le volte che ha voglia di... Allora, ho capito. Vai in crisi, non sa cosa fare e mi chiama. Bianca, dagli il numero di Eva a questo. Ha bisogno di un analista, non di una ex. Dai ragazzi, ti è conosciato il colpettone. Oh, il colpettone. Perché non me l'hai detto? Ma perché non è importante, non c'è niente da dire. Dici sempre che in un rapporto bisogna dirsi tutto? Tutto quello che è importante per il rapporto, dai. Comunque io le mie ex non le sento. Ti credo, tutte quante ti vogliono vedere morto. Comunque, amore, se per te è così importante, io lo chiamo e gli dico che non ci dobbiamo più sentire. Bravo. Digli così. Così, Cosimo sta tranquillo. E tu puoi continuare a sentirlo, come ti pare. No, no. Sì, ho detto a Cosimo che non lo chiamo, che non lo sento più, non lo sento più. Ma perché devi dire che non lo senti più? È un tuo amico. E Cosimo se lo rifi dare basta. Ma io mi fido, però mi sta sulle palle, posso? Ma poi, sto Ivano, non era quello che aveva la casetta a Como? Sì, perché dovevo le trasferite a Como? No, amore, non è vero. Non è vero. Ma questo veramente c'è una casa scioglietta. Ma secondo te io conosco questo. Ragazzi, non è serata. Io ve lo dico. Sì, è Sofìa. 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 Pronto? Sofìa? Ciao papà. Ciao amore. Tutto bene? Sì, grazie. Senti, puoi parlare? Sì, certo. Dimmi. Allora, non so come dirtelo. I genitori di Gregorio sono un po' allontani per il weekend. E lui mi ha chiesto se voglio andare a dormire da lui. Papà, ci sei? E tu che hai detto? Io non so che fare. Cioè, non me l'aspettavo. Cioè, forse un po' sì, ma non stasera. Però se non ci vado, forse ci rimane male. Che faccio, papà? Beh, scusa. Non pensare che io faccia salti di gioia a sapere che ci vai. Dai, papà. Beh, non può essere che... Altrimenti lui ci rimane male. Non può essere solo questo il motivo. No, ma che c'entra? Vabbè, comunque io una cosa te la voglio dire. Vedi, Sofia, questa è una serata molto importante per te. È una cosa che ti porterai dietro per tutta la vita. Non è soltanto una cosa che racconterai alle tue amiche. Vedi, se credi che ripensandoci, sì, insomma, la cosa ti potrà far sorridere. Vedi, allora, falla. Ma se non sei sicura, se non te la senti, aspetta, Sofia, aspetta perché dammi retta, hai tempo. Sai una cosa? Che cosa? No, no, nulla. No, dai, dimmi. Mi hai imbarazzata oggi, quando mi hai dato il pacchetto di preservativi. Mi volevo saccerrare. Beh, ma io mica te li ho dati per usarli. Ah, no, allora per cosa? Non mi li avevi mai dati prima. È come se te lo sentissi, tipo, stesso senso. Comunque, se decido di andare a dormire da Gregorio, vi diamo a mamma che ce la dà picca. Ma scusa, perché non lo dici tu a mamma? Ma cosa? La verità. Ma sei matto? Io invece credo che tu ci debba parlare. È una vita che te lo dico. Pappa, papà, con me ti arrabbia solo. Mi giudica sempre. Ma perché? Devi saperla prendere. Tesoro, ci vuole un po' di pazienza. Eh, papà, ce ne vuole tanta di pazienza. Eh, d'accordo, ce ne vorrà anche tanta, ma ti assicuro, ne vale la pena. Fidati di me. Sei troppo innamorato di mamma per vedere quanto è strozza. Comunque, adesso devo andare. Grazie, papà. Eh, Sofia? Sofia? Va attaccato. Sei stato bravo. Si vede che ti ha fatto bene l'analisi. Bianca! Gliel'hai detto? Eh? No? Gliel'hai detto? Vabbè, l'ho detto solo a lei. Io l'ho detto solo a Peppe. Eh, ho pensato... Lele, basta. Lele se lo sarà sicuramente tenuto per sé. Eh, è mia moglie. Eh... Oh, ma... È la mia migliore amica. Ma ragazzi! Eh... È andato in analisi, eh? Mica mignote! Su, anima, dai! Ragazzi, la rana! E Lucio, vuole che gli rispondi. Ma perché insiste questo? Eh, tu rispondi così magari la finisce, no? Mi sa che è meglio, se no da qua non ne usciamo. Allora, sono a cena da amici. Ci sentiamo domattina. Vediamo se continua. Perché abbiamo deciso di raccontare gli affari nostri. Ho capito, però. Ha scritto stronzo. Ma quel cazzo si permette? Senti, Lele, ad altre cose ce la spieghi, però. No, eh, che spiego? Eh, ti pare che uno da nulla scrive stronzo. Eh, infatti è un capone, un maleducato. Eh, non è che magari sto capone maleducato forse si chiama Lucia? Ma chi è Lucia? Carlotta, cosa stai dicendo? Chi è sta Lucia? Ma che ne so? Ma mi pare che un collega si permette certe libertà. Ti sta chiamando? Ecco. Eh, rispondi Lucia. Eh, rispondi, forza. Così almeno ci togliamo il dubbio e capiamo perché arrabbiato. Dai, Lele, lele. Con viva voce, no? E con viva voce, per forza. Con viva voce. Pronto? Che è sta voce da cane bastonato? Guarda che con me non ha una tazza, eh. Perché sei uscito? Perché non mi hai detto nulla? Non stavi male? Non avevi il febbrone? Oh, che vai? Non risposta. È uno stronzo. Che sai qual è la verità? La verità è che tu non hai ancora capito che cazzo vuoi dalla vita. Anzi, anzi, te lo dico io. Tu manco hai capito se ti piacciono gli uomini o le donne. Ma tu non hai capito. No, 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 ma questo comunque gli è partita la testa, eh. Io non credevo perché non ho mai creduto. Ragazzi, ragazzi, state pensando che io sia... No, 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 è un mio collega. Ma, gay, che si è fissato con me, tutto qui. Ma perché non me l'hai detto, perché non me l'hai detto niente? Ma perché non ho detto niente, ma è un collega, ti dico, è un collega. Oh, coglielo vuoi dire, come tu? Cosmo, dai, su. È un collega. È un collega. Visto. Ma ci sei stato insieme. Eh? Lile, ci sei stato insieme, sì o no? Non mi sembra una domanda di più. Ma sono stato con chi? È un mio collega che si è innamorato di me, è convinto che io sia innamorato di lui. Sì, in fondo è vero? I froci pensano che tutti siano froci. Analisi raffinata, Rocco. Ho capito, l'ho detta male, ma la questione è questa, eh. Il concetto è quello, comunque. Ma cosa sei dicendo? Rocco più o meno ha ragione. Senti, Lele, io voglio sapere se tu sei stato insieme a questo luccio, sì o no? Carlotta! Mamma mia, oh, e su? Sono dieci anni che stiamo insieme, tu e io. Abbiamo due figli bellissimi. Dovresti conoscermi. Eh, forse non abbastanza bene. Ma come non abbastanza bene? Ma volete dire qualcosa, voi? Carlotta, guardami. Amore mio, guardami. Guardami. Ma tu mi ci vedi con un uomo? Mi ci vedi apparecchiato così che guardo dritto davanti a me? Mi ci vedi o no? Mi ci vedi o no? No, no. Mi ci vedi? No, no. Che poi, poi non ci salgo nulla di male, eh. Assolutamente niente. Allora, solo, solo che io ho altri gusti e tu lo sai, sì che lo sai. Carlotta, Carlotta, io ti giuro, ti giuro che fra me e Lucio, mai successo niente, te lo giuro. Eh, Lucio, dice che gli mancano tanto i temati. Oh, ragazzi, ma questa come ve la spiego? No, guarda che non ci devi spiegare proprio niente. Cosimo, non ti ci mettere pure tu, eh. Che è? Che hai? Che ho? Io? Niente. Sto bene. Tu stai bene? Sì, sì, sto bene. Allora posso così. Scusa, ma fanno parlare, no? Non ci ha detto un cazzo per vent'anni, evidentemente è lui. Ma che ti dovevo dire? Che mi dovevi dire? Lele, ma siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma me lo vuoi dire chi sei? Ma è sempre lui. È quello al quale hai raccontato tutto. Quello al quale hai raccontato tutti i fatti tuoi. Hai condiviso tutto con lui. È tutto tutto non mi pare, Peppe. Ho messo un piccolissimo dettaglio. E forse me lo doveva dire. Ah, te lo dovevo dire? Eh. E perché? Perché abbiamo dormito insieme, ci siamo fatti la doccia insieme. Perché se è il mio miglior amico è il froccio, io lo voglio sapere. Poi magari decido che mi va bene lo stesso, ma lo voglio sapere. Poi magari decido che mi va bene lo stesso. Ma chi sei? Ma ti rendi conto di quello che hai detto? No, lele. Renditi conto tu di quello che non mi hai detto. Oh, ma si può sapere qual è il problema? No. No. Lo voglio chiedere io qual è il problema. Ascolta, a te da tanto il fastidio che io sono frocio o che non ti ho mai detto di essere frocio? Dai, cosa mi basta. Mi sembra che stai esagerato, eh? No. Va bene. Se per voi è tutto normale, vuol dire che il problema è solo la mia testa, no? Quindi scusate. Ho sbagliato. Scusate. Ho sbagliato io. Ho sbagliato anche a vedere che eravamo amici. Carlotta, lui non ti ha tradito come un'altra donna, quindi non ha messo in discussione il problema. Stai mettendo in discussione se stesso. Perché ti abbia detto delle bugie? Beh, quello è inevitabile. Ora sta a te capire se lo vuoi inizi a donare, se lo vuoi accettare. E questo è il problema, Carlotta. Bianca, il vero problema è che c'è questo luccio mancano tanti baci di mio maestro. Posso sapere da quanto dura? Quanto dura che? Carlotta, ma ti rendi conto che è tutto assurdo? Ma mica tanto assurdo! Lei ne sono mesi che non mi sfiori. Ma io ero convinta, ero convinta che tu ci avessi un'altra. Magari una zoccola come quella di Peppe, ecco. Magari che lo diavrebbe vinto, se non mi era venuta, no? Ma così avrebbe senso? Lele, da quanto dura? Lele, Lele, da quanto dura? Oh, mi dici da quanto dura? Da poco. Posso dire una cosa? No. E quanti? Quanti che? Prima di lui quanti? Nessuno, Lucio è l'unico. Vabbè ragazzi, grazie per la cena, eh. Dai, andiamo a casa, ne paghiamo a casa. Eh certo, ne paghiamo a casa. Magari ne paghiamo con Rod e Bruno, eh. Bambini, bambini, venite tutti qui, vi dobbiamo parlare, vi dobbiamo dire una cosa. Papà è il frocio. Però mi raccomando, non dite in mente alla maestra, perché se no, che figura gli fate fare vostro padre quando viene a prendervi a scuola? Hai finito? Ma perché non parli? Perché non parli? Parla! Sono i tuoi migliori amici, anche loro vogliono sapere. Andiamo a casa, dai! Ma baci! A casa, baci! Vai Così! Pronto? Ciao, dimmi! Ciao Così! Certo che riuscire a parlare con te è proprio difficile. Ti ho pensato di messaggi, ti cerco da due settimane. Eh, lo so, hai ragione Alessandra, hai ragione. Ma ti ho chiamato, però dimmi, le è piaciuto l'anello? Sì, sì, le è piaciuto, scusa ma mi becchi proprio un momentaccio. Va bene, ma a volo, e gli orecchini, gli orecchini le sono piaciuti? Sì, scusa ma mi becchi proprio un momentaccio che sono incasinato, ti richiamo, ciao! Va bene, ciao! Perché erano gli orecchini? Per te, erano per te. Per me? Io gli orecchini non li porto mai, non ho nemmeno i buchi. No, ma li ho presi per... Mi stai dicendo una bugia? No, ma che bugia, Bianca, ma ti ho mai detto una bugia? Ragazzi, basta con questo gioco perché ci stiamo facendo male, poi succedono queste cose e finisce che non ci capiamo. Dai, su! Ti hai presi per Ginevra? Per Ginevra? Di Stacini? Dimmi che non ti fai Ginevra! Ma c'è Ginevra che stai dicendo, Bianca! Allora per chi erano questi orecchini? Mi li ho presi per... E' Marica? Dai, rispondi a Marica! E' Marica, dai! E? E' per il lavoro, dai! Dai, è per il lavoro! Cambio tu! Dai! Bianca, dammi il telefono! Bianca, dammi il telefono! D'anni quel cazzo di telefono! Pronto, Cosimo? Pronto, amore? Pronto! Scusa se ti chiamo a quest'ora, davvero, ma... Mi ha preso il panico! Sono in bagno! Avvaccio il testo! Mi sa che è positivo! Sono uscite per Iniette! Per Iniette è positivo, vero? Cosimo, non capisco! Amore, mi senti? Mi sa che sono incinta! Cosimo! Amore, mi senti? Bianca! Bianca, apri questa porta! Dai, Bianca, apri questa porta, per favore! Abbiamo... Abbiamo... Si vien ti chiedono! Mi ha es swirlato! Grazie. Ci siamo appena sposati, facciamo lavorare tutti i giorni, la facciamo felici, ma me lo spieni? Non lo so. Bianca da Bertù, un giorno dopo i giorni. Che manco mi volevo sposare, poi? Lei è da primordia, non si è permesso a tristecco. Lei è che un figlio. Ma che ne so io di come si cresce un figlio? Io volevo solo essere vita. Ma non è lo strumento che si stravolge la vita. Ti può pensare di poter essere felice, no? Mi sono fidata. E penso cosa c'entra, ma? Cosa c'entra? Fatele! Sono io! Apri! Lei le guarda che non è nessuno, ah? E' uno di Facebook, è una cazzata, io questo nemmeno lo conosco. Uno che nemmeno conosci, ti chiede se ti sei messa l'intante? Ma Lele! Lele guarda che è un gioco, è una cosa così. Chiamalo! No, no, Lele, io non lo posso chiamare. Chiamalo! Lele, ascoltami, questo c'è pure famiglia, non lo posso chiamare, non lo conosco. Ah sì? Eppure tu hai famiglia, mi sembra. Chiamalo, dai! Ma come chiamare? Lele, non lo posso chiamare, non lo ho mai chiamato! Gli dici che è un gioco! Lele, per favore, ti prego, lele, per favore, non chiamate, Lele, lele. Vediamo quanto vi conoscete. Gioca! Pronto? Pronto? Lotto, sei tu? Ciao! Scusami, ho sbagliato a scriverti di se no. No, no, non fa niente. Comunque, perché mi hai chiamato? Ero curiosa di sentire la tua voce. Mi hai fatto bene. Ah, e poi avrei anche tanta voglia di vederti. Avevamo detto di no, o meglio, avevi detto di no. Hai ragione, sì, avevo detto di no. Però, se hai voglia di vederci, sai che non andrebbe bene. Scusa, adesso ti devo lasciare. No, Carlotta, aspetta. Dimmi. Hai una bella voce, diversa da come l'immaginavo. Ciao. Hai visto? Beh, ma queste mutande te le sei messe o no? Le ha trenti. Così, per sapere. Siamo tutti molto curiosi, volevamo saperlo. Ma lei le ha petto, non le falla finita. Dimelo. Dimelo. Senti, ma io me le vado a casa non ti s'ho aperto più. Ah, sì, va. Dillo, anche questo però ai ragazzi. Dille, dillo che la mamma non si mette le mutande. Ma tu davvero stai facendo tutta questa storia per un paio di mutande? Non le ho. Non le ho, sei contento? Dopo quello che ho sentito stasera mi sembra veramente una cosa da poco. E allora adesso ve la racconto io, segreto. Però non l'ho trovata scritta nella sim del mio telefonino e nemmeno in quella di Dille. Smettete di sbocannare. Quella è quella che davo io. Non guidava Dille. La coppa si è presa lui ma guidavo io. Ero ubriaca, sarei finita dritta in galera. E con i ragazzini piccoli come si faceva. La verità è che abbiamo scelto, come è che dicevamo sempre io e te, il male minore. Per il tanto un uomo è morto e io non definirai il male minore. Adesso basta però. Ma basta a chiedere, ma non chiedere che cosa che non avevo mai più parlato. Come se non fosse mai successo. L'unica cosa che ci ha sentito insieme è stato il senso di colpa. Il mio senso di colpa. Quello che tu hai fatto provare tutti questi anni. Ma perché non ci siamo lasciati io e te? Bisogna imparare a lasciarsi nella vita. Magari mi avessi detto che ero il frocio. Per me è un po' più facile. Veramente qui il frocio sono io. L'ho detto bene. No, perché voi quando lo dite scantite sempre, eh. Crocio. L'ho detto bene. Oh, l'ho detto bene o no? Non è stata una grande idea. Direi proprio di no. Ma perché non ce l'hai detto prima? Perché non ve l'ho detto prima? Non ve l'ho detto prima perché prima non lo sapevo. Poi, quando l'ho capito, poi quando l'ha capito, ve lo dico io perché non ce l'ha detto, sono stato il frocio due ore e mi è bastato. E siamo tutti moderni, eh. A tutti piace avere un amico frocio. Beh, adesso ce l'abbiamo pure noi. E mi sembra pure che l'abbiamo presa bene. Faffanculo delle cose. Perché pensate che non mi abbiano rinnovato il contratto? Perché sono fuori forma? Solo perché sei gay? Oh, Rocco, ti prego. Gay non lo devi proprio dire. Continuate a dire frocio che vi viene benissimo. Ma perché non gli fai causa a questi? Lele, ma quale causa? Ma se non riesco a dire a voi che sono gay. Ma come faccio davanti a un tribunale? Davanti a un giudice, a una giuria, ai parenti? A me piaceva l'idea di questo gioco perché era come quella cosa, quella del serial killer. Anch'io volevo essere smascherato. Non in questo modo, però, eh. Beh, però, adesso fai. Ce lo farei conoscere il tuo Lucio? Eh no, Rocco. Penso proprio di no. Anche perché questa sera avete fatto voi outing, non io. No, no, non ve lo farò conoscere. Perché, non perché io abbia paura delle vostre battutine. Ne ho sentite fin troppe. Ma perché io so che dopo il primo sguardo lui ci starebbe male. E io non voglio che lui stia male. Quando vuoi bene ad una persona, tu la vuoi proteggere. La vuoi proteggere da tutto. Da questo. E da questi. Credete che io non vi capisca. Voi inseguite un sogno disperato. Questo è il vostro tormento. Voi vorreste essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di voi e vigili. E allo stesso tempo vi rendete conto dell'abisso che separa ciò che siete per gli altri da ciò che siete per voi stessi. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperti, vero? Di vedersi messi a nudo, smascherati, riportati ai vostri giusti limiti. Ma poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto è falsità e ogni sorriso è una smorfia. Qual è il ruolo più difficile? Togliersi la vita? Ma no, sarebbe poco dignitoso. Meglio rifugiarsi nell'immobilità, nel mutismo. Così si evita di dover mentire. Oppure mettersi a riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto o fare gesti voluti. Non vi pare? A nessuno interessa sapere se le vostre reazioni sono vere oppure false, sincere o bugiarde. Solo teatro il problema si rivela importante. E forse neanche lì. Oh, io vi capisco e quasi vi ammiro. Secondo me dovete continuare a recitare la vostra parte fino in fondo. E' tornata piena. Pazzesco. E basta, sempre così voi due, su. Amore, amore dai andiamo che... Sì, arrivo, arrivo, arrivo. Ciao Peppe. Oh, ciao ragazzi. Ragazzi, per il calcetto? Ma io ho sentito nessuno. Ma no, ma alla fine vedrai che salta sicuro. Beh, se si gioca chiamatemi. Secondo te non ti chiamiamo, che scherzo. Che scherzo, dai. Amore dai, andiamo. Sì, andiamo. Oh Peppe. Sì? La prossima volta presentacela questa lucilla. Certo. Appena si rimette, organizziamo. Ah, ok. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Perché non hai voluto fare il gioco? Perché non mi piaceva. No, no, tu ti sei proprio impuntato. Hai forse qualcosa da nascondere? No, io non ho nulla da nascondere. Io credo che, invece che, siamo frangibili. Tutti. Chi più, chi meno. Hai ragione tu. Questa è diventata la nostra scatola nera. Dentro di qui ci abbiamo messo tutto. Forse troppo. E non è corretto giocarci. Guarda. Facci quello che vuoi. Io non ho niente di merda da nascondere. E' lì questi orecchini. Sono nuovi? Sì. Grazie. 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 Grazie.